Salve a tutti ragazzi un saluto da... Sì ma volume... Cominciamo malissimo con questo gioco cioè non ho cominciato nemmeno a presentarvi il video e già gli metto meno 100 punti! Un fps free to play che c'è su sim di cui ho sentito tantissimo parlare ma che non ho mai provato praticamente! Maronna che brutto questo! Io adesso dovrei gestare il volume perché so che è... Oi Skyammer, vieni verso l'entrata station e ti metto in! Eh sì! Aspetta un attimo, ora che ci stiamo vedendo il video! Ragazzi, no questa cosa è imbarazzante nel 2015! Quando cambi arma, non so se riuscite a vederlo nel video, si caricano le texture in tempo reale! Nell'arma! Oh mio dio! Nel 2015! Ma che merda! A me meno 200 punti! Come on! Sì va bene minchia che palle come la fate lunga! Meno 100 punti! Stop my ass! Eh devo dire però che come training non è malaccio! 200 punti dai! A parte... A parte il fatto che dura lungo! Dura lungo! Il classico problema di sti giochi! Il tizio che ripara le robe con la pinza nell'aria! Meno 100 punti! What the fuck! E va bene mi sono rotto le palle di sto tutorial! Sì sì sì! Basta vaffanculo! Allora, la prima cosa che si fa quando si gioca un gioco free to play ragazzi, questa è la prima regola, sarebbe guardare lo shop! Una volta ho visto un video di Angry Joe dove praticamente ha speso qualcosa come 60 dollari in sti pacchi di equipaggiamento che tecnicamente ti danno non i soldati ma le carte dorate con equipaggiamenti dei soldati sarebbero queste qui con i vari equipaggiamenti e le varie abilità e che quindi praticamente vanno un po' a culo perché è un po' come giocare d'azzardo! Cioè io 9 euro meno 500 punti! What the fuck! Oppure 50.000 C! Ora 50.000 C! Penso che sia il credito in gioco! Di cui praticamente noi ne abbiamo 0 ovviamente! Vediamo un attimino quanto si guadagna effettivamente facendo una partita perché si guadagna abbastanza facendo una partita! Qua ci sono anche gli obiettivi! Più 300 punti per aver messo gli obiettivi giornalieri, voglio essere generoso ragazzi! Proviamo un match, facciamo una partita, vediamo un attimino com'è il gioco effettivo! Devo dire che il sistema di matchmaking è veramente feroce a trovare partite eh! Error! Meno 200 punti! Questa è una cosa terribile ragazzi, madonna! Cioè tra l'altro posso capire quando un gioco è appena uscito, dopo due mesi ancora hai problemi di server c'è qualche cosa che non va! Ecco in questa mappa... Facciamo che ti do 100 punti intanto il gioco, giusto perché ti sto distruggendo, ti voglio di punteggio, c'è quella barra che sta facendo giù giù sta canando! Beh comunque devo dare un applauso, comunque nonostante le texture che si carichino di merda l'anti-aliasing è un po' meh, la grafica non è male! Gli darei 300 punti! Anche il sistema di movimento, il sistema di puntamento, madonna! Ci sono le C4 e questo già vale 500 punti di suo! Vediamo un po' com'è l'hitbox perché una delle cose più importanti di sto gioco, questi giochi insomma, sono gli hitboxer, quindi devo dire, finora mi è sembrato malvagissimo, dipende insomma, ah merdi o la granata, ah miseria, maledetta! Una delle cose più importanti di questi giochi qui sono gli hitbox perché... Guarda con la mazza, guarda con la mazza! Mi regalo 100 punti perché è figo! Guarda con la mazza, capo! Guarda, guarda con l'è morta tipo in... con la sciatica, girata! Meno 200 punti, ve li ricordate il martirium quando mi piaceva? Adesso non mi piace più, perché era lo stesso problema del martirium, cioè, tu muori sotto i piedi di uno e praticamente ti fai esplodere insieme all'altro, o se è la valle dei kamikaze... guarda che la gente non lo aiuta! Tranquillo, scivolo, sto arrivando! Oh! Che glielo dice adesso a Mila che l'hanno ammassato? Mangiatevi le mie granate, merde! Sono finita le granate? Devo ancora capire se effettivamente gli headshot ti danno un vantaggio nei danni, oppure l'hitbox è fatto un po' alla cazzo... Guarda, guarda, sta cosa del martirium mi sta cominciando a rompere i coglioni! Ma veramente tanto, eh! Gli do altri 100 punti in mezzo! Puttana merda! Corridoi! Vedi, i problemi sui giochi sono i corridoi, e ce ne sono tanti! Perché cosa succede? Succede che tu passi, c'è sempre uno nascosto dal corridoio o davanti, che protegge. Ad esempio, se io vado qua davanti ci sono i cecchini, se io vado nell'altro corridoio c'è uno camperato nell'angolino, aspettando di ammazzarci. Ragazzi, questo è un serissimo problema di level design, questi sono meno 300 punti! Mani basse, proprio! Costruiamo sta roba, per l'amor divino! Che che coglione devo costruire sto schifo! Vai, vai, costruisci! Ce l'abbiamo fatta! E' like a boss! Madonna, tutto io devo fare, oh! Vabbè, abbiamo capito che il coltello funziona a questo gioco! Ok, oddio, funziona! Ammazza con tre colpi, che è, tra virgolette, bilanciato! Perchè, in fin dei conti, se tu ammazzi una persona con un colpo di corpo a corpo, allora tutti quanti negli angolini se ne vanno in giro con il coltello, che è brutto! Anche in questo modo, comunque, gli dai la possibilità di difendersi! Perchè, altrimenti no! Oh, tu non ti rialzerai, merda! Ma che cacchio è successo? Ah, abbiamo vinto? Si è laggato tutto! Eh dai, per essere la mia prima partita, 13-17 non è male quella punteggia, eh! Ah, vediamo i punti che ci ha regalato! Ah, c'è dato il credit bonus, però, eh! Ovviamente, all'inizio, in questi giochi, te li caricano i punti, perchè vogliono che tu cominci, insomma, a sbloccare quell'uno o due personaggi che ti interessano e poi spendi, sperando di ottenere le skin figlie! Vediamo se il quick join stavolta funziona! Ma non penso proprio! Tra l'altro, con il fatto che abbiamo fatto level up, non ho capito quanti punti effettivi ci ha dato in questa partita, quindi voglio capire quanti se ne guadagnano veramente, perchè 13.000 mi sembrano troppi in una partita! MENO CINQUACCENTO PONTI! MENO CINQUACCENTO PONTI! Ma il gioco è crashato? Dai, non mi direi che è crashato! Ma vaffanculo! Ma porca puttana! Ma dai, ma come è fatto a crashare? Dai, facciamo un'altra cosa! Riproviamo a fare quick join! E' la terza volta che provo a fare quick match! Vediamo un po' che succede! Fetching servers! Oh, l'ha trovato! L'ha trovato! Attenzione! L'ha trovato! L'ha trovato! Da solo! Cioè, ho creato una stanza! Cioè, questo sarebbe il matchmaking di sto gioco! Ma che c***o! Ma ma... MENO CENTO PUNTI! PORCHA MISERIA! Allora! Server Browser! E quindi praticamente per trovare una partita ogni volta ci vogliono due anni! Perchè devi stare lì a scrollare i server! Cioè, siamo nel 2015! 2015! Cazzo! Ma chi è sto c***o? C'è pure la certa voca... C***o di dammo, guys! Ma chi è sto c***o? Non la voglio dammo! Drop it! Drop it my ass! Ah, praticamente la next wave sarebbe un tempo specifico di cooldown, se ho capito bene, in cui tutti i giocatori nascono assieme per dare la possibilità di spawn assieme. devo dire che come il gameplay non mi sembra male come scelta... Eh... Eh... E' BACC... De' BACC col c***o! Comunque 300 punti! Faccio un giro di qua Cos'era quel rumorino? 100 punti per la coltellata alle spalle Che cazzo vuole fuck de capa? Porca, quella è una mina Questo mi sta dando sui nervi Non si può togliere la voice chat in game, mi stai dicendo questo? Ma che palle? Ma che palle hai tu? Ma che palle hai tu? Ci sono almeno 200 punti perché non si può togliere la chat in game Non let him push Che cos'era per l'urlo checca? 200 punti per l'urlo checca Tra l'altro sta partita ho fatto anche cagare Ah, eccoli i punti quelli da lì 138 Meno 500 punti Non si possono prendere 138 punti a partita Ma che è? Per sbloccare un personaggio che ti devi fare 50 per 100 per 50 No C'è Triseracop Quello di Quello di Kung Fury Più 300 punti per Triseracop Porca miseria Sì Ma sì Anche se non c'entra un cazzo nel gioco Va bene lo stesso Ma no Triseracop Un mito Un mito, una leggenda Il poliziotto che mirava solo alle palle Bella roba ragazzi Se non l'avete visto Guardatevi Kung Fury Su YouTube Ah madonna Mi ha arrestato e mi sono fatto esplodere dopo essermi arrestato Non l'ho capita sta cosa Però se è veramente così è una cagata Però ora non mi esprimo con i punti No sto scherzando Meno 100 punti What the fuck Voglio provare ad andare sopra Che ogni volta che ci provo Quindi ogni volta che ti vecchi la cura Madonna Ah un cecchino Ce la devo smettere di farmi esplodere in maniera preventiva Sono tipo su Titan Poi quando faccio saltare in aria il mio Titan Però abbiamo vinto Abbiamo vinto Sì Adesso che abbiamo vinto voglio vedere quanti punti mi dà Se non faccio il livello Eh no Equipment case Quindi per la vittoria 121 mi ha dato meno punti per la vittoria Rispetto a prima Ma che strancio c'è Uno vince e prende meno punti Te li faccio vedere io i punti Meno 500 punti Merda Foff What the F Easter OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Grazie a tutti Grazie a tutti